È stato posto sotto sequestro con tanto di sigilli all'ingresso l'ex convento di Giaccherino dove sabato sera 13 gennaio intorno alle 19.20 è crollato un'ampia porzione di pavimento di una sala posta al primo piano dell'immobile quattrocentesco, attualmente di proprietà della società privata Rinascimento SRL. Il crollo è avvenuto durante un ricevimento di nozze di una coppia di sposi 26 anni residenti nella provincia di Firenze, Paolo Mugnaini e Valeria Ibarra, lui insegnante originario di La Strassigna e lei studentessa della Lewis originaria di Houston in Texas. Che cosa è accaduto? 64 persone, prevalentemente tutti giovani sui vent'anni coetanei degli sposi, stavano ballando in una delle sale al primo piano del convento quando improvvisamente il pavimento sotto i loro piedi è crollato al piano inferiore. Decine le persone cadute in un volo di almeno 4 metri e ricoperte dalle macerie, 6 quelle considerate subito gravi trasportate in codice rosso, 2 all'ospedale di Careggi, tra queste c'è un ragazzo che tuttora si trova in prognosi riservata, altre 2 all'ospedale di Prato e altrettante al Saiacopo di Pistoia dove è stata portata in codice rosso anche una ragazza al settimo mese di gravidanza che sarebbe caduta nel crollo, fortunatamente pare non abbia riportato gravi danni. 39 in totale le persone trasportate in pronto soccorso, 7 gli ospedali della Toscana coinvolti in quella che fin da subito è stata definita una maxi emergenza, Pistoia, Pescia, Lucca, Prato, Careggi, Empoli e il Torre Galli. Centinaia di soccorritori accorsi sul posto da tutta la provincia insieme al personale medico e infermieristico, diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pistoia, i carabinieri, la polizia di Stato. Sul posto la sera stessa sono accorsi anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e il procuratore capo della Repubblica di Pistoia Tommaso Coletta. Sarà la procura adesso ad aprire un fascicolo per capire quanto è accaduto e le eventuali responsabilità. Grazie a tutti.